Allora, l'accordo è chiaro, ci potrebbe anche essere del tenero, sareste una bellissima coppia, Nerone e la capretta, l'accordo è chiaro, se il pacco è buono tu ti esibisci anche perché ieri, mi devo scusare, c'è da fare un'errata corrige con gli animalisti che hanno già scritto, non ti esibisci né la pecorella ma è tutta un'altra cosa, è una capretta tibetana, allora, apri, apri, festa, 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 adesso, concentrati, non la fare sbogliata, fai bene, festa, non ride, la riega la capra, non ride, aspetta, mi devo concentrare, e fai ragazzi, grazie, 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 grazie,